Conto la rovescia per i primari del Partito Democratico che si svolgeranno domenica 8 dicembre in tutta Italia. Sul sito del PD Trieste, quindi pd.trieste.it, trovate tutte le modalità del voto. Accanto ai seggi fissi a disposizione delle persone ricoverate in possibilità di ammuoversi perché ammalate, un seggio speciale che viene attivato telefonando al numero 040 366 883. I seggi sono aperti dalle 8 alle 20, tranne il seggio di Santa Croce che chiuderà le 14 e quello di Contovello che sarà aperto dalle 14 alle 20. Per votare sufficiente la testa elettorale ed un documento di identificazione all'eseggio verrà chiesta la sottoscrizione di un documento attestante la vostra adesione alle linee politiche del Partito Democratico ed il versamento di un contributo di almeno 2 euro per l'espresso sostenuto e il contributo non è dovuto dagli iscritti del Partito Democratico. Possono votare anche gli immigrati in possesso del permesso di soggiorno e ai giovani sotto i 18 anni che hanno compiuto 16 alla data del voto e coloro che per ragioni di studio e di lavoro sono a Trieste e leggono del voto. Pur essendo residenti per il certificato elettorale in altre province, i milionenni e i residenti fuori provincia devono pre-registrarsi al sito delle primarie del PD entro le 12 e le 6 dicembre. I residenti fuori provincia e gli immigrati votano al seggio numero 7 presso il Teatro Miele in piazza Duca degli Abruzzi 3. Peraltro gli organizzatori, le responsabili, Gianfranco Pattoanelli, informa i sostenitori e comunque le persone che vogliono andarsi a reccare di consultare il sito per vedere il seggio di riferimento allestito dal Partito Democratico.